Buongiorno ragazzi, bentornati alle nostre video-lezioni di lettura commentata di alcune opere della letteratura italiana ed europea anche. L'ultima volta, l'ultima lezione, abbiamo visto insieme all'interno del racconto che stiamo facendo sulla poesia simbolista, quindi come cambia la poesia da Baudelaire in poi, abbiamo visto per l'appunto Baudelaire con Correspondence. Oggi andiamo a vedere qual è la risposta italiana inizialmente, almeno a questi poeti bohemian, che dalla Francia, da Parigi, scandalizzano il mondo con le loro poesie, con il loro nuovo modo di fare poesia, con il loro nuovo modo di vivere. Questo modo di vivere lontano dalle regole morali, dai condizionamenti della società borghese, affascina moltissimo la città di Milano, che è un po' la Parigi italiana, come cultura avanzata, cultura aperta alle novità che giungono dal mondo europeo. Proprio a Milano nasce un movimento di alcuni amici che fanno poesia e che vengono chiamati gli scapigliati, la scapigliatura. Oggi leggeremo un testo di Praga. Gli scapigliati non hanno la forza evocativa, la capacità innovativa che hanno i bohemian, i poemodì francesi, ma rappresentano comunque un passaggio verso un modo di fare poesia diverso, che seppur ancora legato allo stile tradizionale italiano, già presenta temi nuovi, provocatori, temi che corrodono un po' lo stile italico, fatto di buoni propositi, di buoni sentimenti. Quello stile che da Petrarca a Leopardi, fino ai giorni nostri, caratterizza un po' la poesia italiana. E quindi fanno una poesia che provoca. Fondamentalmente non riescono a superare di molto il, come dire, il punto, la chiave di volta, l'avevano chiamata con Baudelaire, cioè passare da una poesia che spiega a una poesia che evoca, però sono già comunque qualcosa di nuovo, qualcosa che vale la pena presentare come risposta italiana alle novità che giungevano dalla Francia. Emilio Praga scrive questa poesia che si intitola Preludio, una poesia in otto strofe di Quartine, nelle quali lui propone una sorta di manifesto dei poeti scapigliati, quindi a che cosa i poeti scapigliati si oppongono, cosa esaltano, che vada in direzione opposta a quella che è la morale borghese. Ma leggiamola insieme e riusciremo sicuramente a spiegarci meglio. Noi siamo i figli dei padri ammalati, aquile al tempo di mutare le piume, svolazziam muti, attoniti, affamati, sull'agonia di un nome. C'è già una serie di immagini degradate. Noi poeti, noi poeti moderni, noi poeti contemporanei, noi poeti scapigliati, noi della nuova generazione, non siamo più i figli dei grandi eroi della mitologia, non siamo più aquile che volano sopra la terra svelando nel mistero coi propri occhi capaci di vedere lontano. Noi siamo figli dei padri ammalati. I padri ammalati sono la generazione romantica, dice il vostro libro. Quella generazione che abbiamo visto lo scorso anno, quindi una generazione piena di dubbi, di difficoltà, una generazione che pensa al suicidio, una generazione che non ha più la spinta ideale dei secoli precedenti, che si accontenta di una sorta di malinconia con cui guardare l'immensità dell'universo, che è troppo per noi. E quindi lui dice, addirittura noi siamo i figli di questi, siamo qualcosa che deriva geneticamente dal romanticismo. Siamo aquile al tempo di mutare le piume. Siamo delle aquile, ma al momento in cui stanno mutando le piume, quindi hanno quegli aquilotti che non sanno volare. Svolazziamo muti, attoniti, affamati. Vedete questa aggettivazione estremamente negativa? Svolazziamo muti, attoniti, affamati, sull'agonia di un nome. Siamo su un'epoca che sta morendo, sull'agonia di un nome. Il nome è il Dio, è la divinità. Siamo in un momento in cui le grandi divinità del passato, soprattutto i grandi personaggi della poesia antica, moderna, del romanticismo attuale, sono oramai agonizzanti. Quella poesia non va più bene, è passata, è sorpassata. Loro fanno molto riferimento a Manzoni, ad esempio, lo troveremo anche dopo, il casto poeta. Oramai è in agonia, quel tipo di poesia in agonia, non va più bene per l'età moderna. Noi siamo lì, ma non siamo capaci di volare sopra, di volare oltre quella poesia. Siamo i figli dei padri ammalati. Quindi è già una sorta di negazione di una possibilità. Questo è proprio il rifiuto dell'ottimismo che cominciava a permeare, grazie al positivismo, l'epoca che è quella della fine del 1800. Nebbia remota è lo splendor dell'arca, e già l'idolo d'or torna l'umano, e dal vertice sacro il patriarca si attende in vano. Altre immagini. Il rifiuto della religione, anche. Lo splendore dell'arca è lontano. Cioè, l'alleanza fra Dio e l'uomo, no? L'arca dell'alleanza è quella che Mosè porta in Palestina e che gli è stata data da Dio, e l'alleanza fra Dio e gli uomini simboleggia questo, Emilio Praga, è finita, non c'è più, è una nebbia lontana, e l'uomo torna all'idolo d'oro. È un riferimento alla Bibbia, no? Quando gli ebrei, delusi da Mosè, ritornano ad adorare l'idolo d'oro. Cioè, qualcosa che non è la divinità, non è Dio, è qualcosa di molto minore. E dal vertice sacro il patriarca si attende in vano. E noi non solo non adoriamo più il rapporto con Dio, ma con degli idoli, ma in più non abbiamo nessuno, in prospettiva, che ci potrà salvare, come il patriarca, cioè Mosè. Attendiamo in vano Mosè. Terza strofa, sempre sulla religione. S'attende in vano dalla Musa Bianca, che abitò venti secoli il Calvario, e in van l'esausta vergine s'abbranca i lembi del Sudario. Aspettiamo in vanamente dalla poesia cristiana, dalla Musa Bianca, che abitò il Calvario, e l'esausta vergine, cioè Maria, oramai s'abbranca i lembi del Sudario. È un riferimento a Cristo, alla poesia cristiana, che per secoli ha dominato la poesia, non per ultima quella di Manzoni, con gli imni sacri. E quindi Praga, in questa seconda e terza strofa, ci descrive la difficoltà, l'evidente difficoltà che ha la poesia dei suoi tempi a uscire da un passato, che è un passato di un romanticismo oramai esausto, un passato di una poesia cristiana che raccontava un rapporto ferdito degli uomini che oramai non c'è più, e quindi vedremo poi quale sarà la scelta di questi poeti. Rifiuto della tradizione, anche, casto poeta che l'Italia adora, vegliardo in sante visioni assorto, tu puoi morire, degli anticristi è l'ora, Cristo è rimorto. Questa è la poesia, questa è la strofa che è più provocatoria, si va a toccare due aspetti che in Italia erano intoccabili in quest'epoca. Da una parte Manzoni, il casto poeta, viene definito vegliardo in sante visioni, che l'Italia adora, quindi questo poeta che è adorato da tutti gli italiani, è un vegliardo oramai assorto in sante visioni, e gli dicono tu puoi morire, crepa, gli sta dicendo, oramai è l'ora degli anticristi, è l'ora dei poeti bohemiani, è l'ora dei poeti francesi, di quelli che cantano il degrado, non quelli che cantano la santità, quelli che cantano il peccato, non quelli che cantano la giustizia e la bontà. Cristo è rimorto, e qui fa il verso al Cristo è risorto degli inni sacri, delle poesie sacre e delle litanie sacre. Cristo non è risorto, Cristo è rimorto. Quindi, dopo aver presentato queste prime quattro strofe estremamente polemiche, ci racconta che cosa sono loro. Quindi Emilio Praga ci racconta cosa sono i poeti scapigliati, quindi questa immagine è bellissima, delle persone lontane dalla loro epoca, ma non ancora in epoca nuova, quindi non ancora capaci di andare oltre. E infatti dice, ho nemico lettore, addirittura il lettore viene definito nemico. Canto la noia, l'eredità del dubbio e dell'ignoto. Il tuo re, il tuo pontefice, il tuo boia, il tuo cielo e il tuo loto. Quindi cosa canto? Canto la noia, la mancanza di certezze, quindi canto ciò che non ha senso, ciò che non è capace di dare significato alla mia vita, il tedio esistenziale. Canto il dubbio, l'impossibilità di dare una risposta. Canto l'ignoto, l'impossibilità di conoscere. Canto il tuo re, il tuo pontefice, il tuo boia, il tuo cielo, il tuo loto. Canto tutto quello che domina la tua vita, cioè il potere politico, il potere morale, la paura della morte, il sogno di un qualcosa di bello dopo la morte, e il tuo loto, ovvero il tuo degrado morale, il tuo essere oramai finito nel fango. Canto il tuo cielo, ma anche il tuo fango, perché oramai l'unica cosa che posso cantare è questo uomo che non sa più scegliere, che non sa più dove andare, che non ha più punti di riferimento. Canto l'itane di martire ed empio, canto gli amori dei sette peccati che mi stanno nel cor come in un tempio inginocchiati. Canto le litanie, anche qui è provocatoria, perché le litanie sono una sorta di cori sacri, che si fanno durante le funzioni religiose, e che si ripetono in modo continuo e strutturato. Quindi io vi canto delle litanie di martire ed empio, cioè di peccatore. Canto gli amori dei sette peccati. Cioè canto tutto ciò che desidera peccare, i sette peccati capitali, che mi stanno nel cuore come in un tempio inginocchiati. Vedete come continua a provocare, no? Che cosa possono fare questi poeti, dice? Noi non possiamo più provocare, possiamo solo distruggere tutto ciò che non va più bene. Non hanno ancora una proposta alternativa. Canto le ebrezze dei bagni d'azzurro, l'ideale che annega nel fango. È un'antitesi. Canto l'ebrezza di volare in un bagno di cielo, ma anche tutti gli ideali che annegano nel fango. Non irridere, fratello, al mio sussurro, se qualche volta piango. E qui c'è la caduta, un po', perché tutta questa provocazione alla fine finisce solamente in una malinconica attesa di qualcosa, in un malinconico pianto. Questa immagine che il vostro libro ha messo è veramente evocativa. Cioè questo è il poeta che rifiuta tutto ciò che c'è, ma non ha una sua proposta di rivolta, non ha una sua proposta positiva. E quindi qualche volta piango. Già che più del mio pallido demone odio il minio e la maschera al pensiero, già che canto una misera canzone, ma canto il vero. Non irridermi, fratello. Cioè, tu che leggi questa posizione, non irridermi se io piango, perché odio mascherare i miei pensieri, mettere il minio, cioè il trucco e la maschera ai miei pensieri. Cioè, più di me stesso, del mio pallido demone, vedete come è anche il demone, la mia ispirazione, il daimon che mi ispira, è pallido, cioè non sono un rivoluzionario. Però odio mascherare i miei pensieri, già che canto una misera canzone. Cioè, non mi irridere, perché è vero che canto una canzone povera, una poesia che non ha molto da dire se non opporsi con provocazione a qualcosa, ma canto il vero, cioè canto ciò che sento veramente. Quindi vedete come siamo lontani dall'evocatività della poesia simbolista, dalla grande capacità di costruire analogie, metafore, sinestesie, è solamente una sorta di confessione, di un disagio che i poeti sentono di fronte a una modernità dentro cui ancora non sono. Buona lettura e buono studio, ci vediamo alla prossima poesia.